Mi trovo in via Golfo di Taranto, la strada percorrendo la quale poi si arriva all'Inps e poi alla Villa Verde. Vedete uno stradone molto ampio, torno qui a distanza di mesi in base al proprio spinto dalla disperazione, dalle segnalazioni disperate dei cittadini. Qui non so quale ditta, parecchi mesi fa, forse all'inizio dell'estate o addirittura prima, fece dei lavori e quindi intervenne sul manto stradale, lavori di scavo, di scasso, dopodiché la ditta se ne è strafottuta altamente. Pensate, non si è degnata né di mettere asfalto né di mettere il cemento, se ne è andata e ha lasciato la terra, ha lasciato il brecciolino, la terra, guardate, io non vi dico chiacchiere, guardate, terra, pazzesco. Tutto questo tratto, vedete, da lì possiamo andare in fondo, tutto lì e arriviamo in fondo qui. Tanto, dice la ditta, io ho un'amministrazione comunale che non se ne frega niente, che non controlla, io ditta posso fare i porci comodi miei? Tanto, nessuno mi dice niente e quindi qui vi è la responsabilità dell'ente che ha commissionato il lavoro alla ditta. Guardate, ci troviamo proprio in prossimità di una fermata del bus, guardate, è normale che le persone debbano prendere il bus in queste condizioni? Guardate, è normale? Io non lo so. Qui veramente stiamo parlando il mondo al contrario, Taranto al contrario. Guardate, pazzesco, mesi e mesi. Scusate, ma quel settore dei lavori pubblici, il settore, l'ufficio che si occupa della manomissione del suolo pubblico, non interviene? No, perché mi sembra una cosa pazzesca. Guardate, lì addirittura proprio sprofonda, qui c'è il brecciolino, brecciolino terra. Cioè, una volta le ditte si limitavano a mettere la linguetta di asfalto, oggi le ditte lasciano così, finiscono il lavoro, dopodiché in 4 e 4,8 scappano. Guardate, questo sembra un percorso di campagna, sembra che qui ci siano le terre, le coltivazioni. Pazzesco! Immaginate, lo vedete, cosa succede quando piove? No? Ecco, basta vedere anche un po' avanti. Ecco, Pino, guarda, facciamo vedere lì. Guardate, lì è piovuto e c'è la fanghiglia, c'è il fango. Ma questo per dire, oltre al fatto che qui si rischia di cadere, si inciampa, questa è terra di nessuno. Terra di nessuno! Perché abbiamo un'amministrazione comunale incompetente, inefficiente, inesistente, strafottente. Tutte con lei c'ha queste disgrazie. E purtroppo queste disgrazie alla fine le paghiamo noi, cari cittadini di Taro. Guardate, io vorrei vedere in quale città d'Italia si assiste a questo scempio. Nessuno. Solo forse nei paesi del terzo mondo, nei paesi sottosviluppati. Non lo so, guardate. Ma Staranto c'ha un sindaco? Questo fantasma politico dove sta? Ma c'ha un assessore ai lavori pubblici? Quest'alto fantasma politico di Ciraci dove sta? Tutti i fantasmi, tutti assenti. Questo è patrimonio, l'assessore al patrimonio, patrimonio del Comune di Taranto. Strade comunali che vengono stuprate, che vengono, grazie ai cittadini che si complimentano, strade che vengono sfregiate nell'assoluta indifferenza e nel menefreghismo di Rinaldo Melucci e Com. E voi parlate di Taranto, volete spacciare Taranto per Capitale Europea. Voi siete amministratori da terzo mondo, da terzo mondo, perché solo amministratori da terzo mondo possono tenere una città in queste condizioni. Le ditte fanno i cazzi loro, fanno gli stracazzi loro, perché voi permettete alle ditte di fare i cazzi propri. Scusate la volgarità e lo dico con la rabbia, con la rabbia dei cittadini che abitano qui, non ne possono più. Un mio amico che vive in Romania e che ha i parenti, i familiari qui è disperato, mi sta segnalando la cosa. Dice sono passati mesi, mesi e mesi. E cosa devo dire, caro Marco? Purtroppo questa è Taranto e la colpa è anche dei cittadini che hanno rivotato Rinaldo Melucci. Speriamo che l'abbiano capito definitivamente cosa rappresenta Rinaldo Melucci e la sua amministrazione per Taranto. E' tutto da via Golfo di Taranto, potrei nascondere, non dire che è Taranto, potrei spacciarla per una zona del terzo mondo. La gente tranquillamente la identificherebbe come una realtà da terzo mondo.